Grazie per l'invito, il mio viaggio nelle colline metallifere è iniziato già ieri sera perché ho pernottato, ho avuto il piacere anche di mangiare in uno degli agriturismi che fa parte dell'associazione Drago, quindi ho già avuto modo di entrare un po' a contatto con il territorio e questo mi ha fatto molto piacere sia personalmente sia dal punto di vista professionale per iniziare a intuire alcune linee di sviluppo. Vado subito al cuore della questione, dopo la pandemia il sistema agricolo come sappiamo è uno dei settori che ha tenuto meglio ma ha mostrato allo stesso tempo, l'industria alimentare ha mostrato delle debolezze e il settore agricolo ha continuato e continuerà a soffrire alcune delle criticità legate fondamentalmente alla sostenibilità della produzione, alla mancanza di un ricambio generazionale, agli impatti sociali ed ambientali che produce. L'Italia in questo contesto è chi è stata chiamata come tutti gli altri stati membri a scrivere il proprio piano strategico per l'agricoltura per gli anni dal 2023 al 2027 nell'ambito della PAC, della politica agricola comune, quindi un piano molto ambizioso sia dal punto di vista della governance perché impone un coordinamento tra tutte le regioni che prima scrivevano il proprio PSR, lo mandavano alla commissione, negoziavano e rendicontavano i progetti. Ora il piano è stato scritto a livello centrale, questo è stato una grossa sfida per noi come CREA e come rete rurale nazionale perché abbiamo accompagnato il ministero in questo percorso molto lungo, molto complesso. In ogni caso pensiamo di aver fatto un lavoro piuttosto buono dal punto di vista perlomeno della partecipazione e speriamo anche dal punto di vista dei contenuti. La PAC oggi si basa su nove obiettivi, come sappiamo deriva da una politica che sosteneva principalmente il reddito e la competitività del settore. Oggi la PAC si occupa di molti più aspetti, si occupa degli aspetti ambientali in maniera molto forte, come vediamo ci sono più di 10 miliardi di euro dal 2023 al 2027 che vanno proprio in direzione di investimenti di carattere ambientale. La PAC per chi non lo sapesse è costituita da tre grandi gruppi di interventi, il primo pilastro è un sostegno di base al reddito per gli agricoltori basato fondamentalmente sul numero di ettari, ovviamente vincolato al rispetto di alcune regole di buona conservazione dei terreni. Il secondo pilastro che forse è l'aspetto più interessante anche per quanto riguarda questo territorio che sono quindi gli investimenti, investimenti che possono essere anche di carattere agroclimatico ambientale e poi ci sono gli interventi settoriali che nella futura programmazione che inizia in realtà fra poco più di un mese verranno sostenuti il settore vetivinicolo, ortofrutticolo, olivicolo, apistico e pataticolo. Tutto questo appunto rientra in un unico piano strategico nazionale. Le risorse sono ingenti perché per l'intera programmazione abbiamo e avrete a disposizione più di 35 miliardi di euro, è una cifra imponente tanto che la PAC è proprio la politica che a livello europeo assorbe la maggior parte delle risorse del quadro finanziario. Circa un terzo delle risorse pubbliche stanziate a livello comunitario finisce proprio nei fondi che finanziano la PAC, quindi il FEAGA e il FEASR. Quali sono le novità? Ci sono alcuni vincoli, cioè nella definizione delle risorse che sono state definite, un quarto dei pagamenti diretti ad ettaro deve essere vincolato al rispetto di tecniche rispettose dell'ambiente e il 35% dei fondi dello sviluppo rurale allo stesso tempo deve essere ecocompatibile. Quindi c'è una sorta di condizionalità ambientale che viene rafforzata, molto più rafforzata rispetto al passato, in coerenza ovviamente anche con il framework del Green Deal, della Farm to Fork eccetera. Molto importante il fatto che la PAC oggi si occuperà da gennaio 2023 anche di lotta al caporalato, lotta al lavoro nero nell'agricoltura, questo è un aspetto nuovo e una delle novità più importanti. È una PAC sempre più equa che cerca di rispondere alle distorsioni che sono avvenute nel passato rispetto ai fondi che venivano direzionati fondamentalmente a poche grandi aziende che riuscivano ad assorbire la maggior parte delle risorse. Oggi tramite un meccanismo complesso che non riporto qui, gli aiuti sono molto più equi, sono distribuiti in maniera più uniforme sul territorio. E c'è un forte sostegno alle filiere e ai settori anche in un'ottica di cooperazione, quindi di integrazione di filiera e poi vi farò vedere anche quali sono proprio gli strumenti. Come dicevo più di 10 miliardi di euro destinati alla transizione agroecologica del settore attraverso Indennità per Natura 2000, attraverso ecoschemi, quindi che sono delle pratiche aggiuntive che gli agricoltori possono mettere in atto per ricevere un contributo aggiuntivo. Molta attenzione è stata posta al benessere animale, quindi cercare di garantire un sistema zootecnico che sia più rispettoso delle condizioni di vita dei capi. Ci sono diversi obiettivi strategici che vanno a incontrare la PAC, dal punto di vista della posizione degli agricoltori nella catena del valore innanzitutto, cioè cercare di garantire il fatto che gli agricoltori possano essere remunerati adeguatamente per il lavoro che svolgono. Dal punto di vista del sostegno al ricambio generazionale, qualcosa che è già stato menzionato negli altri interventi, c'è una forte componente che va a destinarsi proprio ai giovani agricoltori, ai nuovi agricoltori e anche alle start up non agricole, quindi questo è qualcosa di interessante perché la PAC come vediamo si inizia a occupare anche di sviluppo rurale nel suo complesso, nella consapevolezza che una buona agricoltura sana può esistere soltanto se c'è un'area rurale sana, non è svincolata dal territorio in cui opera e una grande attenzione anche appunto al tema dello sviluppo delle aree rurali nella loro complessità. Questa forse è una delle tabelle più importanti di questa presentazione perché fa vedere le risorse che sono state destinate allo sviluppo rurale, spero che si veda, ma vi anticipo perché il piano ancora non è stato ufficialmente approvato dalla commissione, avverrà nelle prossime settimane, ma che ci sono quasi 4 miliardi e mezzo di euro che saranno destinati a impegni in materia di ambiente e clima, quindi tutta una serie di misure, di investimenti che sosterranno gli agricoltori per adottare pratiche agroecologiche. Tante risorse anche sul tema della cooperazione, dei progetti integrati di filiera, qualcosa che per voi è stato molto interessante nel momento in cui avete attivato ad esempio l'associazione Drago e non solo perché da queste nuove possibilità derivano ovviamente nuove opportunità anche per territori come il vostro. Mi volevo focalizzare su alcune di questi interventi, come vi dico che lo sviluppo rurale è costruito sulla base di interventi, quindi sono delle schede di misura che ogni regione ha deciso di attivare oppure no, io ovviamente vi ho riportato quelle che la regione toscana ha attivato in modo che siano per voi di utilità. Il primo che riporto è questo, la cooperazione per lo sviluppo rurale, locale e gli smart villages, è un tema quello degli smart villages che è fortemente promosso adesso, in questi anni è stato fortemente promosso, incentivato a livello unità di Unione Europea e che cosa sostiene l'intervento? La preparazione e l'attuazione di progetti integrati e strategie smart villages, quindi che sono dei progetti di cooperazione articolati in una o più operazioni condivise da parte di gruppi di beneficiari pubblici e o privati relativi a specifici settori per favorire in tutte le aree rurali l'uso di soluzioni innovative, è una definizione piuttosto ampia mi rendo conto, ma su questo intervento ci sono possibilità, lo segnalo perché quando iniziamo ad avere confidenza con questo tipo di strumenti di linguaggio perché dalla prossima programmazione saranno queste, i bandi a cui dovrete e noi vi aiuteremo ovviamente a rispondere. I temi sono interessanti perché si parla di cooperazione sui sistemi del cibo, filiere e mercati locali, si parla di cooperazione per il turismo rurale, cooperazione per l'inclusione sociale ed economica e per la sostenibilità ambientale, anche qui c'è tutto dentro, bisogna poi saperli scrivere e riportare. Segnalo anche che come probabilmente saprete anche nel PNRR c'è un ammontare di risorse ingente, circa un miliardo e due di risorse, destinate proprio ai contratti di filiera nel settore agricolo, quindi anche qui grandi opportunità. Un tema anche interessante è quello delle comunità del cibo, usciamo un attimo dal territorio PAC e mi svincolo un attimo dal mio ruolo più istituzionale del CREA perché vi parlo di qualcosa che mi appassiona e che studio e che fortunatamente applico anche in alcuni territori, quello delle comunità del cibo, che in Toscana hanno una forte incidenza e allo stesso tempo quello dei distretti del cibo, guardate la frequenza e la numerosità dei distretti del cibo in Toscana, questo denota dal mio punto di vista un'ottima capacità, c'è già il terreno fertile per la cooperazione, questo è il segnale che ci tengo a sottolineare, che da esterno osservo sia nella mia percezione personale sia dai numeri che vi riporto. Interessante è anche il tema delle politiche del cibo che sono un tema relativamente nuovo ma che è molto interessante dal mio punto di vista perché tiene insieme un po' tutte le cose che vi ho detto finora, sono delle politiche che vengono scritte, stabilite e coordinate a livello locale per iniziare a rendere il sistema agroalimentare nel suo complesso più sostenibile. Politiche del cibo possono avere vari punti d'ingresso, ci si può occupare della dieta, ci si può iniziare a occupare dello spreco alimentare, della produzione agroecologica, ma quello che le contraddistingue è la capacità di leggerle in una visione organica. Le politiche del cibo si sviluppano attraverso la scrittura di un piano del cibo territoriale e attraverso un organo di coprogettazione, condivisione ma anche revisione della stessa politica del cibo che è quella del consiglio del cibo, quindi dei partenariati, un luogo, un'arena in cui gli attori del territorio si confrontano e stabiliscono le linee prioritarie di azione e soprattutto correggono gli eventuali errori e adattano le strategie sulla base delle nuove sfide. Si stanno sviluppando in maniera capillare su tutto il territorio, la Toscana di nuovo è un hub particolare, se ne stanno sviluppando tante, ad esempio c'è la piana del cibo di Lucca, c'è il piano strategico del cibo di Pisa, Livorno si è dotato di una, quello in basso a destra, Food Revolution che è la strategia alimentare di Livorno, ma tanti altri territori in Italia, soprattutto città ma anche aree rurali, si stanno avvicinando a questo tema delle politiche del cibo che è piuttosto fumoso se non si cala a terra, se non si trovano le strategie utili per portare strumenti, investimenti e risorse e questi sono dati proprio dal mix di iniziative che vi ho fatto vedere, quindi PAC innanzitutto perché la PAC convoglia un gran numero di risorse ma anche distretti del cibo e comunità del cibo. Chiudo soltanto segnalandovi che probabilmente può essere di vostro interesse il fatto che il 26-27 gennaio a Roma si terrà il convegno della rete italiana sulle politiche locali del cibo, quindi per me è un piacere invitarvi e se vorrete partecipare ci vedremo lì. Grazie per l'attenzione. Grazie a tutti.